Ciao a tutti ragazzi e bentornati da Carmi Special Oggi parliamo di calcio mercato e in particolare del mercato dell'Inter che non abbiamo parlato in questi giorni perché? Perché mi ha un po' sorpreso una sorta di trattativa ancora non è proprio del tutto ufficiale ma a quanto pare l'Inter ha investito ben 60 milioni compresi anche di bonus per due giovani talenti del Genoa Pellegri e Salcedo ora Salcedo non so come si pronunci però la cosa che mi ha colpito è appunto questo investimento ovviamente sono compresi i bonus ma i bonus sono in mano al Genoa quindi sono facilmente raggiungibili perché non sono in mano a linea quindi se il Genoa dice che quei bonus servono alla squadra verranno ovviamente raggiunti però ovviamente una sorta di investimento molto molto oneroso è un po' rischioso sono cifre molto mastodondiche per dei sedicenni che soprattutto sono sedicenni che non hanno avuto tante presenze in Serie A Pellegri se non sbaglio tra presenze addirittura Salcedo non so neanche se abbia mai esordito quindi sono una sorta di investimenti molto molto onerosi è vero che Sabatini ci ha un po' abituato a questi colpi quindi probabilmente conosce bene questi due giocatori però è vero che è un investimento nel futuro ma un futuro non proprio prossimo quindi io ovviamente non sono un tifoso dell'Inter però se dovessi ragionare da tifoso dell'Inter sinceramente avrei preferito un investimento immediato su magari giocatori già pronti che nei prossimi anni mi potessero appunto aiutare a raggiungere degli obiettivi perché in questo modo ad esempio l'Inter al momento si ritrova ad avere una rosa simile ancora a quella dell'anno scorso ovviamente adesso a partire da luglio ci saranno altri investimenti però se questi investimenti vengono fatti ad esempio 20-30 milioni per Skriniar sinceramente ragazzi io l'ho visto giocare nella San Bedoria non è tutto sto fenomeno anzi in alcune partite io ho visto fare errori clamorosi quindi mi aspetto che questi investimenti che sono comunque corposi perché Zhang quindi la proprietà dell'Inter ha un buon budget soprattutto da spendere appunto da luglio in poi quindi diciamo mi aspetto degli acquisti di giocatori fenomenali e possano portare l'Inter subito a degli obiettivi concreti però al momento sono un po' deluso soprattutto per questi investimenti così costosi i colpi ragazzi io sono paio di puntare sui giovani ma ho i punti su quelli della primavera visto che comunque l'Inter ad esempio se non sbaglio ha vinto appunto con la primavera quindi magari su quella squadra ci potrebbe essere qualche giovane da portare in prima squadra e in più oppure fai degli acquisti come è stato per Orsolini la Juventus non ha speso più di 30 milioni e tra l'altro Orsolini ha giocato tantissime partite in Serie B quindi diciamo che è un po' una scommessa dell'Inter che mi ha sorpreso parecchio ditemi se è sorpreso anche voi e se pensate che possa essere un investimento un po' rischioso e soprattutto in vista del futuro non proprio prossimo lasciate un like appunto se siete d'accordo e ditemi cosa ne pensate ci vediamo con un prossimo video alla prossima ciao